Ora di caso bosco se riseras pro colpa del errore cometido Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì morì d'una crappa d'irventura, e non si la gatta ne la intusino curcuma, già in dintenne si spina l'epuntura, tina natura scotta, tina natura, e non si la grafà va a tii morta essa vastura, se vittàario cattara è la sincraza e non bat ispina con mutin Assumaria La tutta di una talea renegata mi domanda quasi piangende Sa grappa mia esquena e prossimada Sa grappa mia esquena e prossimada E lo sorbe così teso un facendem, e lo sorbe così teso un facendem, e lo sorbe così teso un facendem. E la bug in calma e incoraggiata, sta sicura che già sono correnti, e appena schizza la penna di mutava. A vena schizza da perneri muta, to tarbato sila napone su ta, to tarbato sila napone su ta, to tarbato sila napone su ta, tamarato sila napone su ta, va. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.